Dovevo cominciare la palestra quest'anno, ti ricordi? Come no? Non ti ricordi che avevo convinto a mamma che doveva cominciare a pagarne? No, non me lo ricordo. Ma che adesso ti vuoi fare i muscoli? Non eri fissato per l'informatica? Una cosa non esclude l'altra. E poi il computer è rotto. Fa lo stesso, tanto non possiamo fare una palestra. Come no? Abbiamo la pensione per gli orfani? Non dire questa parola, è orribile. Ma che? Orfani? E' stupido. Che ci avevamo oggi? Latino. È vero che mi passi la visione, dai. Non so. In quei giorni la situazione economica era peggiorata. Alla tele dicevano che sarebbe accaduto qualcosa all'Europa, o all'Italia, o a Roma, o al nostro quartiere. Il fatto è che i soldi bastavano appena per mangiare. Aspettavo qualcosa, una catastrofe. L'arrivo di un meteorite che anerissi il cielo. Ma niente accadeva. Il cliente arriva, lo saluto. Le chiedo cosa desidera. Tu ti metti vicino a me, attenta, ricevi la borsa.